Sull'ex manicomio il Presidente Marsilio ha messo le sue responsabilità di fatto, o meglio ha confermato quello che io ho detto qualche giorno fa avviando e denunciando soprattutto la questione, cioè il fatto che dovevano essere messe a disposizione almeno 30 milioni di euro, la Regione ne ha messe a disposizione i 20 milioni, smentendo se stessa, sconfessando tanti esponenti che si sono espressi nel corso di questi giorni, ma purtroppo impedendo all'Università di portare avanti il percorso. Il Presidente Marsilio deve fare una sola cosa, deve ripristinare immediatamente le risorse e anche scaricare sull'Università. La responsabilità non è corretta istituzionalmente, non corrisponde al vero, anche perché l'Università ha trasmesso il progetto diverso tempo fa e soprattutto ha fatto sempre affidamento sulle rassicurazioni della Regione che sono state smentite dai fatti, perché l'accordo con la Presidente Meloni penalizza l'Università, penalizza Teramo città universitaria, penalizza il nostro territorio, quindi il Presidente Marsilio piuttosto che dare risposte in conferenza stampa deve ripristinare solo e scusente le risorse. Per quanto riguarda l'ospedale non so qual è il problema o la questione del Presidente, noi abbiamo già espresso la nostra volontà, il Consiglio Comunale si è espresso, ora tocca alla Regione che mi risulta non abbia messo le risorse a disposizione dell'ospedale di Teramo per quanto riguarda i mutui e soprattutto deve chiudere la procedura della Commissione che sta governando la stessa Regione e il Presidente doveva far partire anche la procedura dell'articolo 34, quindi il Presidente deve rivolgersi a se stesso e ovviamente troverà sempre la collaborazione istituzionale da parte della città perché noi vogliamo il nuovo ospedale, vogliamo un nuovo ospedale di secondo livello contrariamente a quello che hanno scritto nella rete ospedaliera di cui devono assumersi la responsabilità perché penalizza la nostra provincia.